ecco qua finalmente sei arrivato perché ci hai messo molto tempo ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video è appena arrivato un pacco guardate qui cos'ho xd design bobby il nuovo zaino antifurto che mi ha presto a recensire sapete che mi ha combinato ups ha spedito questo bel pacco ad atene in grecia anziché a roma dove sto io attualmente quindi ups cosa combini a parte questo la recensione quindi è ritardata di qualche giorno ma spacchettiamolo vediamo come si presenta questo nuovo prodotto subito dopo la intro eccola ciao ragazzi buon natale eccoci qui con bobby attualmente è vuoto iniziamo subito a caricarlo partendo dal computer perché c'è una tasca apposita lo apro per bene quindi prendo il mio mac e lo vado ad inserire al suo interno passiamo ora al mio tablet metto anche questo quadernino se mi serve per prendere appunti o roba varia lo giro così vedete meglio inizio col caricare il mio obiettivo della mia canon questo perché adesso sto eseguendo un setup da youtuber quindi tutta attrezzatura che mi porto in giro per fare video quindi questo qui andrà in questo scompartimento dopodiché mi porto dietro anche il caricatore della canon assieme al suo cavo il mouse per il computer mi porto dietro anche il cavalletto perché senza di questo veramente sono fregato e lo vado ad inserire in questa piccola taschina che sarebbe addivita anche per il power bank power bank che ho lo vado a posizionare qui e lo vado a collegare direttamente a questo cavetto usb incorporato all'interno del dello zaino per poi eventualmente caricare dall'esterno qualsiasi dispositivo penne e sì perché per scrivere sul mio quadernino ho bisogno di penne dopodiché qui dentro ci metto una matita perché può sempre essere utile non la metto qui perché ho paura che vada a sporcare il mio zaino una gomma naturalmente e il temperino ovviamente non può mai mancare dopodiché caricatore del computer che vado a posizionare qui caricatore del telefono che vado sempre a posizionare qui e il mio microfono lavalier che in questo momento è applicato su di me quindi ci sarà solo la custodia che solitamente vado a posizionare qui dopodiché una bottiglia d'acqua perché dopo aver registrato insomma ti viene sete e manca una cosa fondamentale la macchina fotografica che sta qua dietro ora che tutto è posizionato possiamo chiudere il nostro zaino nella tasca qui sotto vado a mettere tutti i cavetti che mi serviranno quindi cavetto usb da usb a usb micro usb scusate poi un cavetto lightning e un cavetto type c e qui siamo a posto in questa tasca qua invece metto prima i fazzoletti perché possono sempre servire e le mie cuffiette seconda tasca conclusa terza ed ultima tasca questa qui ci vado a mettere il mio portafoglio eh sì con dentro tutti i big money di youtube fatto questo siamo pronti per prendere il nostro zaino e per partire andare a farci un giretto e sperare insomma che nessun ladro venga ad attaccare il nostro zaino anche perché sicuramente fallirebbe nel tentativo andiamo ed eccoci qui con il nostro zaino bobby ragazzi fa un freddo cane che voi non avete idea iniziamo subito innanzitutto vedete che è realizzato in questo bellissimo tessuto questa è la colorazione grigia c'è anche la colorazione nera però è molto più carina questa colorazione secondo me e poi troviamo questa parte anteriore invece di un differente materiale opaco nero con questa striscia sempre grigia al centro questo materiale ahimè ha un problema è stato graffiato con un'unghia e il segno adesso rimane perennemente quindi è stato rovinato sostanzialmente dato che questo zaino comunque ha un costo sui 90 euro circa trovate il link in descrizione mi sembra di non poco conto ecco se si striscia assolutamente col niente perché parliamo di un'unghia con la mia unghia ho fatto così e il segno adesso rimane quindi me lo devo tenere cosa che magari mi aspetterei se questo segno fosse stato fatto da un mazzo di chiavi ma appunto non è così quindi partiamo subito con una nota negativa però andiamo avanti la costruzione risulta piuttosto solida si tiene molto bene sulla schiena devo ammettere però che dopo svariate ore di utilizzo si inizia a sentire il peso dello zaino soprattutto se al suo interno naturalmente ci mettete computer caricatori batterie eccetera che appesantiscono molto vediamo un attimo il retro vedete che fatto in questo tessuto anti sudurazione sostanzialmente i lati sono realizzati di un materiale apposito per non essere tagliato infatti sapete che molte alcune delle strategie appunto dei ladri per rubarvi le cose all'interno del vostro zaino è effettuare un taglio sul lato oppure sul fondo e questo zaino è protetto da appunto questi attacchi chiamiamoli così perché appunto al suo interno ha dei materiali piuttosto resistenti nel retro troviamo questa fascia che servirà sostanzialmente per andare ad infilare il vostro zaino all'interno della maniglia di un trolley il che è molto molto pratico troviamo poi questa prima tasca qui a destra un'altra tasca qui a sinistra troviamo questo tascone invece inferiore e poi troviamo questa entrata usb che servirà per appunto eventualmente se avete un cavetto di ricarica collegare il vostro smartphone e all'interno dello zaino come vi ho fatto vedere prima appunto posizionare un power bank per poterlo ricaricare molto molto comodo molto smart poi troviamo vedete che l'apertura vera e propria dello zaino è qui è al di sotto di questo lembo di tessuto appunto per proteggere la cerniera che eventualmente potete andare ad assicurare scusate ulteriormente andandoci ad applicare ad agganciare un lucchetto perché c'è il foro apposito poi troviamo ovviamente la maniglia per andare a tirarlo su andando a vedere poi questi due lembi sempre realizzati in tessuto con il retro sempre antisudore troviamo due taschine vedete qui dove possiamo inserire ad esempio delle carte che può essere ad esempio la carta della metro adesso se riesco a toglierla ecco qui vedete che io ho inserito la mia carta dei trasporti romani perché la uso praticamente ogni giorno e quindi metterla qui mi è molto comodo ed è anche piuttosto sicuro perché vedete che sarà molto difficile che vi esca dalla tasca altra caratteristica che ho apprezzato veramente molto di questo zaino è la possibilità di ritrarre per così dire il lembo la fascia nera che servirà appunto per la regolazione dell'altezza di questa fettuccina qui vedete che se tolgo questo lembo elastico posso srotolare la fascetta nera che servirà appunto come vi ho detto appena adesso per la regolazione dell'altezza del vostro zaino questa è stata fatta apposta per primo risparmiare spazio due non ingomberare e tre per far sì che comunque una volta che avrete regolato il vostro zaino la lunghezza rimanga quella andiamo a vedere come si presenta al suo interno andando a tirare fuori tutta l'attrezzatura che c'è al suo interno che ho messo prima andiamo a tirarla fuori allora apriamolo nella parte inferiore ci saranno due strap in velcro che possiamo andare a sganciare per andare ad aprire a 180 gradi sostanzialmente il nostro zaino in questo modo possiamo anche vedere meglio come si presenta al suo interno partiamo dallo schienale innanzitutto troviamo un alloggio appunto come ho fatto io per il computer un alloggio per il tablet massimo 10 pollici il mio ipad air 2 ci sta tranquillamente anche orizzontalmente se avete la cover invece dovrete metterlo per forza di cose verticalmente per entrambi i casi ci sono vedete queste fascette elastiche per assicurare meglio il vostro computer e il vostro tablet passiamo dall'altro lato troviamo vedete una piccola zip con una sorta di astuccetto dove dentro ci possiamo riporre oggettistica quello che vogliamo qui per andare a posizionare penne matite quello che volete qui un'altra taschettina per come ho fatto di andare a posizionare vari caricatori microfonini eccetera questo è un primo scompartimento qui ci sta comodamente una mirrorless sony piccolina la mia canon ho provato ma ci stava veramente a pelo rischiavo veramente di rompere tutto ragion per cui l'ho spostata da qui dentro acqua davanti e qui un altro piccolo scompartimento potete metterci ad esempio l'acqua un ombrellino portatile oppure perché no dato che questo è un setup per gli youtuber è un obiettivo no come ho fatto appunto io per essere spazioso si è piuttosto spazioso purtroppo non ho apprezzato fino in fondo alcune scelte da parte dell'azienda da parte di xd design come ad esempio l'alloggio per i tablet che secondo me vedete che si ferma esattamente qui parte qui si ferma qui avrebbero potuto farlo un po più profondo anche per consentire a tablet magari più grandi di essere alloggiati tranquillamente in questo secondo scomparto cosa che purtroppo in questa almeno in questa edizione non c'è altra cosa che non ho apprezzato fino in fondo è stato questo scompartimento qui perché essendo la mia canon piuttosto vecchietta una 600d e piuttosto grandicella all'interno di questo scompartimento non ci sta il che per me è un po un problema altra cosa che avrei apprezzato se avessero introdotto fin da subito come da questo lato c'è questa questa piccola taschettina verticale mi sarebbe piaciuto se ci fosse stata anche dall'altro lato cosa che invece non accade detto ciò è uno zaino comunque molto bello esteticamente non c'è assolutamente nulla da dire molto comodo si tiene veramente molto bene sulle spalle ben organizzato comunque internamente perché tutto sommato ci sono tutti i vari scompartimenti tasche taschine taschette per andare a riporre tutti i vostri oggetti di valore e non anti shock resistente all'acqua quindi alla pioggia resistente ai tagli purtroppo evidentemente però non ai graffi posteriori pazienza naturalmente di bobby ci sono varie versioni c'è la versione compact che è un po più piccolina questa antifurto e poi ci sono altre versioni che vediamo se riuscirò a recensire in un futuro spero prossimo in tutti i casi per questo video è tutto io ora metto tutto dentro e me ne torno a casa perché fa un freddo cane da nicolò cummerlato è tutto noi ci vediamo in una prossima produzione video vi faccio tanti ma veramente tanti tanti auguri di natale e ci si vede sul nostro canale youtube tech.it su iphone italia e tutti i nostri altri canali di spinblog.it un saluto e buone vacanze buon natale e buon anno nuovo ciao